Per il Francavilla, quella odierna del Fittipaldi era la gara della vita da vincere ad ogni costo, e così è stato, tanto che gli uomini di Telprete, approfittando anche della doppia superiorità numerica, si sono imposti con una manita. I sinnici, a differenza delle precedenti esibizioni, partono subito forte e Nole sblocca il risultato già all'ottavo minuto, battendo Sanchez sul secondo palo sul cross di Mattias Grandis. I cilentani si fanno vedere al quarto d'ora con un pallonetto dal limite di numerato, susseguente a una respinta di cent'onze che si perde oltre la traversa. Due minuti dopo altro tentativo degli ospiti con un colpo di testa alto di Bonfini appostato sul primo palo sul calcio d'angolo. Ma al ventitresimo Sanchez perde la testa e nel tentativo di recuperare il palone a sesta un pugno a farinola e viene espulso. Fiorillo è costretto a correre ai ripari e manda in campo il secondo portiere Coletta per l'attaccante Cozzolino, ma i suoi ci riprovano dal limite con Sene che al trentunesimo non finalizza al meglio un'azione insistita. Alla trentacinquesima occasionissima per Orefice, ma a cent'onze pare il suo colpo di testa da due passi. Oggi però è la giornata del Francavilla, al quarantesimo arriva il raddoppio con un diagonale forte di Mattias Grandis servito ottimamente da un'imbucata di Nolè. La risposta dei campani immediato e vede il protagonista ancora Sene che entra in area dalla destra ed impegna cent'onze. L'arbitro per via dell'espulsione concede sei minuti di recupero durante i quali Colella effettua un grande intervento sul floor del mondo. Lo stesso argentino ci riprova subito dopo nel corner successivo, ma Colella para nuovamente. Si va a riposo con il rosso-blu avanti di due reti. Durante l'intervallo Fiorillo opera altre tre sostituzioni, ma i biancazzurri continuano ad essere troppo nervosi. È un'apertura di secondo tempo, a Kunso, dopo essere stato ammonito, continua a protestare, viene nuovamente ammonito e quindi espulso e lascia i suoi in nove. I Lucani ne approfittano immediatamente e al decimo Mancino mette la partita in ghiaccio direttamente da calcio di punizione. Ma non finisce qui, al diciassettesimo floor del mondo cale il poker al termine di un batti e ribatti. Al ventiquattresimo occasione anche per Avella che, in piena aria, devia di poco a lato un cross dalla destra. Al trentasesimo miracolo di Colella su un colpo di testa di Maggio, ma al quarantesimo arriva anche il quinto gol con Fanelli che batte Colella a tu per tu in chiusura di una bella triangolazione. Finisce con la prima vittoria di questo campionato per il Francavilla che abbandona l'ultimo posto in classifica e si rilancia in chiave salvezza.